Domenica riparte il percorso del Crotone con la sfida con la Lazio, Crotone che recupera Clayton Dos Santos dopo l'infortunio, va a fare a meno di Cordaz per squalifica e di Mesba che invece è partito per partecipare alla Coppa d'Africa. In Lega Pro invece gare lontane ma Cosenza che si muove con decisione scegliendo il nuovo direttore sportivo. Nuovo incarico invece per Massimo Cerri. Sentiamo. E Aladino Valoti, nuovo direttore sportivo del Cosenza Calcio, toccherà all'ex centrocampista rosso-blu, pupillo di Bortolo Mutti nel Cosenza che sfiorò la massima serie all'inizio del 2000, occuparsi del mercato di gennaio che dovrà migliorare l'organico dei Silani attualmente affidato da Stefano De Angelis, tra l'altro ex compagno di squadra di Valoti. Massimo Cerri, che finora aveva ricoperto il ruolo di responsabile dell'area tecnica, svolgerà, fino a giugno 2017, attività di scouting per la società. Nato da Alzano Lombardo nel 66, Valoti ha ricoperto per 12 anni, fino a luglio 2016, il ruolo di direttore sportivo dell'Albino Leffe, in serie B e Lega Pro. Da calciatore Valoti è cresciuto in Atalanta e ha iniziato la sua carriera con impiacenza. Con le maglie di due formazioni ha collezionato decine di presenze della massima serie, tra le tante squadre in cui ha giocato, il Parma, il Vicenza, il Verone e il Cosenza di Bortolo Mutti, appunto, collezionando 59 presenze in maglia rosso-blu nelle stagioni 99-2000 e 2000-2001.